Eleonora Giorgi racconta a chi il suo complicato percorso per sconfiggere il cancro al pancreas ammette le difficoltà per il pesante trattamento antitumorale e confessa dopo l'inizio della chemio non sono la stessa no, non sono la stessa voi lo sapete che ho un grande senso dell'umorismo anche nei momenti più allucinanti della mia vita qualche battuta leggera è stata la mia salvezza però mi sono trovata a chiedermi ma che? mi hanno messa sulla sedia elettrica? ho alleggerito ripetendomi sarà un esperimento alla Truman Show e lì mi è venuto da ridere pure se mi mancava il fiato spiega l'attrice la 70enne sottolinea sorrido tanto sono agguerrita lo dico e lo ripeto non voglio che la malattia sia padrona della mia vita voglio che tutto il bene continui a entrare pure il male è insomma voglio che ci stia tutto perché questa è la normalità e così che voglio incoraggiare tutti i malcapitati come me desidera condividere questo tsunami per una normalizzazione visiva della cosa i figli Andrea avuto da Angelo Rizzoli e Paolo avuto da Massimo Ciavarro la inondano d'amore anche le compagne dei due fanno lo stesso la 70enne poi chiarisce che finora in ospedale era stata pochissimo e pacatamente spiega ho 70 anni la vita l'ho già vissuta e tanto siamo onesti una situazione di questo tipo è più accettabile alla mia età che per una persona di 35 come ne ho viste in ospedale per fortuna affronto la chemio con l'obiettivo molto verosimile di fare un intervento chirurgico tra tre mesi dopodiché dovrò essere in gamba per mio nipote Gabriele io devo portarlo all'asilo parla del figlio di Paolo Ecclizia in Corvaia coppia dal 2020 il bambino a febbraio compirà due anni il nipotino la Giorgi lo definisce un traguardo nel mio cuore al di là della gioia di ogni singolo minuto fin qui vissuto e vivibile mio nipote è uno degli spunti più forti per esserci ancora per qualche anno devo esserci per lui per le sue manine che tende verso di me per i giochi che facciamo per continuare a sperimentare la sua innocenza e raccontargli tante cose del mondo antico che noi nonni dobbiamo portare vecchie regole vecchi valori vecchi ma eterni sentimenti precisa arriveranno anche le nozze proprio di Paolo Ecclizia credo anche che i preparativi siano in fase avanzata però io adesso non so niente di più vado step by step il primo obiettivo sono le chemio e poi l'operazione le nozze saranno più in là persino la cena della vigilia di Natale è rimasta fino all'ultimo un punto interrogativo dovendo prima affrontare la seconda scossa di sedia elettrica sa a volte ho paura ma Eleonora non si perde d'animo e così indossa nuovamente il suo elmetto da soldato e riprende a combattere grazie a tutti grazie a tutti